Lasciate, anche io ci marcio a me, ci puoi camminare Offerta speciale della giornata, 6 scatole di legumi, 600 lire Nel reparto cosmeti, saponette coreane al ginseng Il ginseng, la struttura miracolosa delle tre morienze che prolunga la giovinezza della pelle Signore, si entra da un'altra parte Avete provato i nostri testi, miscela Gran Brasile sotto vuoto nei meravigliosi contenitori 10001 Nel reparto premaman, la novità dei nostri magazzini I mini jeans per neonati nella confezione impermeante Straordinaria offerta di lancio del biscotto tutto burro Un classico dei biscotti preparato con formula antica nella tradizione dei nostri prodotti Il gusto finissimo e gli ingredienti di prima scelta con cui viene prodotto Rendono tutto burro un biscotto eccellente per la colazione e per il tè Ed in qualsiasi occasione si voglia gustare il meglio dell'arte biscottiera Non si fermi! Mette a distribuzione dei propri clienteli un ampio parcheggio completamente gratuito Perché chiudi la porta al progresso? Nel nostro ampio reparto permetta tutte le novità della tecnica per il bricolante Una serata tazza Fermi! 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 E dovrai non raccontare Crema fluida asper Inchioda la giovinezza E leva! Fermi! Fermi! Vai, vai, ci passo io qui, vai Non scappare, imbecille, l'ho detto che sei un cretino Da vedere perché non ne sono i miei, muoviti Hai ragione, scusa Sì, scusa